Oggi 23 di ottobre, seconda delle masterclass realizzate in collaborazione con il Festival del Cinema di Palma de Mallorca, il Festival di Marettimo, il Festival di Belgrado e naturalmente di Cifa e Fonarcoma. L'obiettivo di questa seconda masterclass che si svolge all'interno dell'auditorio Parco della Musica, proprio per il Festival del Cinema di Roma, è la spiegazione della direttiva copyright, ovvero la tutela del diritto d'autore ai tempi di internet. Difatti l'idea è proprio questa, scritta ed inserita nella direttiva europea, ovvero tutelare i contenuti protetti dal diritto d'autore anche quando vengono messi in rete, quindi resi fruibili a tutti attraverso le piattaforme e i social.